Il tema del congresso era la rivoluzione, le rivoluzioni possono essere anche lente che durano nel tempo, quindi Giorgio Pinchiori e Anifeold ci hanno voluto dopo lunghi anni che abbiamo passato con loro rispettivamente, Tomberli sono 38 anni e io festeggio i miei 30 anni di enoteca al loro fianco, quindi non c'è stato nessun passaggio doloroso, ma ancora adesso c'è la grande continuità, è un grande affiancamento che c'è con loro nel portare avanti questo progetto. La ristrutturazione è arrivata perché come tutte le grandi aziende, come tutti i grandi ristoranti c'è sempre un certo bisogno di rinnovarsi nel tempo, non darsi mai per finiti, perché comunque un ristorante è un posto, un luogo dove le persone lo frequentano, oggi soprattutto con i social si ha modo di vedere grandi cambiamenti nei posti, basta un clic e subito ci rendiamo conto che qualcosa è cambiato e quindi il sentirsi a passo coi tempi è stato doveroso nel cambiare anche parte dell'arredo dell'enoteca. Sì, noi da poco abbiamo inserito due menu, fortemente evoluti l'Evoluzione e anche il Terra Madre, si chiamano così, evoluzione Terra Madre. Il primo prende spunto dal cambiamento continuo che tutti noi abbiamo e come persone ma anche come professionisti, quindi la possibilità di dare ai piatti di evolversi, evolversi in maniera singolare, quindi i 5, 6 o i 3 ingredienti che fanno la ricetta poter cambiare per esigenze, per stagionalità, per confronto con i nostri clienti, per confronto con le persone che lavorano con noi, vedi i direttori di sale e Metro Hotel che ci aggiornano su quello che è la fase di critica del piatto, positiva e negativa, quindi diamo sempre una piccola tarata ai nostri piatti. Basta pensare anche al fatto che solitamente quando un piatto nasce, nasce come viene pensato, poi va provato, poi deve essere spiegato al cuoco che deve replicare quel piatto, dopodiché va eseguito nel tempo, quindi nasce e muore in maniera diversa. Il menu evoluzione è proprio quello, un continuo cambiamento del menu, non solo per stagione ma anche per esigenze di professionalità e per cambiamenti ovviamente della natura. La nostra filosofia non è quella di dare piatti iconici e nomi o signature dish alla cucina, è un'evoluzione continua, quindi ci piace il fatto che la cucina cambi e possa restare nuova e contemporanea nel tempo senza mai avere un ricordo di un piatto che si è mangiato. Io immagino sempre un bel presente perché è quello dove tutti noi dovremmo essere focalizzati, non pensare tanto al passato, non pensare tanto al futuro ma vivere molto al presente perché dal presente si pongono poi le basi per il futuro. È ovvio che vedo un bel futuro, è un futuro longevo, a me piace pensare che l'Enoteca sia proiettata nei prossimi 50 anni e oltre, l'Enoteca Pinchiori resterà sempre un'icona della ristorazione.